Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Palestrina, hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Tribunale di Tivoli, a carico di due soggetti, di cui uno di origine romena, accusati di far parte di un'articolata organizzazione, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione, convenzionalmente denominata Oceano, che ha visto l'impiego di oltre 70 carabinieri, due unità cinofile ed il supporto di un elicottero del raggruppamento aeromobili carabinieri di pratica di mare, sono state eseguite anche 26 perquisizioni, delegate dalla Procura della Repubblica di Tivoli, al termine delle quali, sono state arrestate altre sette persone. Si tratta di cittadini italiani, sodali alla banda, sorpresi in possesso di mezzo chilogrammi di stupefacenti, per lo più cocaina e marijuana, pronta per essere inserita nei canali di spaccio locali. Sono stati sequestrati anche, una pistola con matricola a brasa, sostanza da taglio, e bilancini elettronici di precisione. I due provvedimenti cautelari, scaturiscono dall'attività investigativa condotta dal nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Palestrina, e dai comandi stazione di Zagarolo, e San Cesareo. Avviata nel mese di settembre dello scorso anno, l'operazione ha permesso di individuare un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacente nell'area prenestina, in particolare nei comuni di San Cesareo, Zagarolo, Palestrina e nella frazione di Colle di Fuori, del comune di Rocca Priora. L'indagine, che si è protratta per tre mesi, aveva già permesso di arrestare in flagranza di reato, altre 11 persone, e di denunciarne a piede libero due, tutti correi nell'illecita attività, in concorso con gli attuali indagati. E di sequestrare oltre 700 grammi di stupefacente di vario tipo, sostanze da taglio, 12 bilancini elettronici, documenti e denaro ritenuto provento dell'attività a dispaccio. Nello stesso contesto, si inquadra anche il provvedimento di chiusura, per motivi di ordine pubblico, per la durata di 90 giorni, di un bar di San Cesareo, divenuto punto di riferimento degli assuntori di droga.